Prima abbiamo parlato di sex toys, adesso sei diventata nonna, basta con i sex toys di una volta. Allora, mettiamo via questo che mi interessa. Adesso sai quale sarà il tuo sex toys? Cosa? La lima per i galli. Oh, che schifo! A sponzare, a sponzare, a sponzare. Comunque ragazzi, posso dirvi una cosa? Ti sponzano i piedi, mezz'ora nel bicarbonato e io gli faccio, ti gratto un po' il tallone. Mia nonna aveva la scorsa del provolone, non sentiva, io le facevo così, con l'accendino, lui non sentiva niente. Cosa stai dicendo? Un tallone, non aveva più sensibilità. A me queste cose fanno schifo di brutto. Ma no, non capiamo. No, non tua nonna, il callo, quelle robe lì. No, ma era duro soltanto il callo. Michele, questo è il bastone, te lo metto qua. Comunque così stai veramente contribuendo al fatto che io possa non essere mai più fidanzata. Michele, tu sei troppo buona, noi dobbiamo un attimino renderti... Ci vuole un gampaletto! Aspetta che ce levi i scarpe. No, ma mi fai anche togliere i scarpe. No, ma io non ho i piedi. Mettiamo subito il gampaletto. Non preoccupare, mi sto il gampaletto. Asciughiamo prima.